Salve a tutti, sono Fabrizio Iva, geografo politico. Quello che sta succedendo in Afghanistan in questi giorni, anche nelle ultime settimane ovviamente, ma soprattutto quello che sta avvenendo in questi giorni, ha colpito molto l'opinione pubblica e il sistema mediatico occidentale e quindi siamo bombardati da tutta una serie di notizie, articoli di giornale, le news e la tv con immagini speciali dedicate alla questione. Allora, per riuscire a venire fuori da questa marea di informazione bisogna sviluppare alcune capacità di selezionare quali sono le informazioni più efficaci e più significative, cioè quelle che ci dicono qualcosa di concreto e quali invece sono sostanzialmente un contorno molto emozionale, opinioni e percezioni molto soggettive che non riescono però a cogliere bene non solo quello che sta avvenendo o in certi casi svolgono anche in parte una funzione di cortina fumogena che ci rende difficile capire effettivamente cosa succede e questo lascia spazio alle nostre soggettive percezioni, alle paure, alle nostre opinioni anche consolidate che a volte non ci fanno capire bene quello che succede. Il mio suggerimento banale quindi è quello di cercare di prestare attenzione agli aspetti pratici, concreti, delle notizie che ci vengono date cercando proprio di non farsi prendere dalle proprie emozioni e anche ovviamente dal quadro complessivo della rappresentazione che ci viene fatta. Questo significa che tra i vari articoli che noi possiamo trovare sui quotidiani in questi giorni è utile isolare quali articoli e all'interno degli articoli quali sono le parti che ci danno delle informazioni più concrete e precise. Da questo punto di vista i servizi televisivi dei telegiornali possono essere svianti e non troppo utili perché sono troppo essenziali, perché mettono immagini di repertorio, lo noterete a volte le stesse immagini vengono ripetute per più giorni e spesso possono essere emotivi. Lo stesso bisognerebbe fare anche nella scelta ma non sempre è facile capirlo prima degli speciali tv che vengono dedicate alla questione dell'Afghanistan perché anche qui bisognerebbe essere in grado di sapere già o di capire velocemente se gli esperti invitati sono esperti che ci dicono qualcosa di concreto o che fanno dei quadri piuttosto generici, generali e così che non chiariscono bene le cose. Comunque anche all'interno degli speciali tv bisogna cercare di riuscire a cogliere gli elementi concreti, pratici che riescono a darci un'idea di quello che sta avvenendo effettivamente sul territorio afgano, non solo Kabul ma riescono a darci un'idea di quello che avviene un po' su tutto il territorio perché è un territorio rispetto alla popolazione abbastanza grande e quello che ci fanno vedere che succede a Kabul non è detto che succede in altre città o certamente non succede nello stesso modo nei piccoli villaggi o nelle cittadine sparse all'interno del territorio afgano che è molto frammentato anche dal punto di vista delle isole culturali, delle lingue e anche di alcune pratiche di vita. Per cercare di aiutarvi a svolgere questa azione da soli vorrei portarvi come esempio la scelta che io ho fatto rispetto agli articoli che sono stati pubblicati su Repubblica di oggi 17 agosto tra tutti quelli che ho letto ne ho scelti tre vi leggerò di questi articoli alcune frasi, alcuni pezzi che secondo me sono molto chiari e riescono messi insieme a dare un'idea di quello che sta succedendo e anche una valutazione critica della situazione e delle sue prospettive. Il primo articolo come esempio è quello di Alberto Cairo che è un operatore sanitario che da molti molti anni opera soprattutto nel settore ortopedico per costruire e dare degli arti a mani, braccia, gambe, piedi agli afghani che per vario motivo le hanno perse soprattutto civili come conseguenza della lunghissima e pluridecennale guerra all'interno dell'Afghanistan. Ebbene essendo uno che lavora sul territorio in modo molto pratico questo suo articolo di pagina 3 è estremamente utile. Quello che sottolinea e che secondo me l'informazione non sta sottolineando abbastanza è che questa cosa che per noi è drammatica e terribile che l'esercito afghano sia sfaldato e che i talebani velocemente sono arrivati fino a Kabul eccetera ebbene questo ha voluto dire, lo ricorda Cairo, che è avvenuto senza spargimento di sangue e quindi con un numero ridotto di feriti che vanno negli ospedali dove opera Cairo. Gli ospedali, dice Cairo, avrebbero potuto riempirsi come in passato quando neppure nei corridoi restava spazio. Allora questo è un elemento che secondo me è positivo perché come avrebbe detto sicuramente Gino Strada se fosse ancora con noi che le guerre provocano morti e sono con effetti collaterali terrificanti e quindi il fatto che si combatta poco e che i talebani arrivano velocemente banalmente ha ridotto il numero di feriti e il numero di morti e questo non è un dato negativo. Intanto altro elemento concreto che riporta Cairo è che la zona abitata prevalentemente dai Tajiki del nord-est che è quella della valle del Panjshir e delle valli intorno, ebbene quella che era del comandante Massoud fino alla sua morte nel 2001, ebbene hanno chiuso l'accesso alla valle e quindi sono pronti a difendersi come avevano fatto contro i talebani 20 e 30 anni fa. Più avanti Cairo nel suo articolo riporta un dato positivo che viene da Erat e lui dice a diffonderla sono stati social media, quindi sono da verificare, ma queste informazioni dicono che le ragazze a Erat possono studiare, università compresa, alla condizione che gli insegnanti siano donne, le aule separate da quelle maschili e che indossino l'ijab, pratica peraltro che stanno già facendo assolutamente tutte. Il fatto che proprio ieri agli esami di metà anno le studentesse siano state ammesso all'esame lo comproverebbe. Al personale dei nostri centri di riabilitazione le nuove autorità hanno chiesto di continuare a lavorare uomini e donne assicurando la sicurezza. Come vedete questo è il tipo di informazioni concrete che lui stesso dice andrebbe verificato, che è comunque un elemento positivo che ci dice che i talebani di oggi non sono più i talebani di 25 anni fa. ci potrebbe dire anche che sono diventati molto abili magari a raccontare delle bugie, però il fatto che si sentono obbligati rispetto a 25 anni fa a raccontare delle bugie significa che in qualche modo riconoscono il condizionamento e il contesto internazionale oltre che quello interno. Più avanti Cairo ci ricorda che a Kabul ci sono poche auto in circolazione, molti negozi chiusi, soprattutto quelli grandi, nessuna donna in giro, l'atmosfera è di timorosa attesa. E questo fatto che i talebani sono entrati così in fretta, questo però lo dico io, ricordo che vuol dire che non sono a sufficienza e non sono in grado di gestire il potere e quindi i talebani sono in grado di rimpiazzare soltanto una parte del personale per il momento ancora non solo non riescono a gestire la situazione ma certamente stanno negoziando con quelli che gli possono essere utili. Quello che hanno visto gli afghani e che ci fanno vedere i nostri servizi televisivi e che anche loro vedono è che gli stranieri vengono prelevati dalle ambasciate con gli elicotteri mentre gli afghani ovviamente sono lasciati a sbrogliarsela da sole. E come vedete questi sono esempi che vi dicevo molto concreti, informazioni su dinamiche concrete che ci danno uno squarcio di quello che avviene a livello di semplici semplici afghani con qualche notizia positiva. Il secondo articolo che ho trovato con contenuti positivi e utili per capire la situazione è quello a pagina 26 di Antonio Giustozzi. Antonio Giustozzi è Senior Research Fellow al RUSI RSUSI di Londra e affiliato al King's College. Tra i suoi libri nel 2019 ha pubblicato Taliban at War. Ebbene il titolo dice l'enigma dei talebani è un po' quello che vi dicevo poco fa che tendenzialmente i talebani di oggi non si sa bene quali sono perché i rapporti che ci sono stati sono stati solo quello delle delegazioni di Trump che ha deciso lui di trattare con i talebani la fuoriuscita degli statunitensi per cui Biden non ha fatto altro che mettere in pratica quello che Trump aveva iniziato. Poi possiamo discutere se l'ha fatto bene o l'ha fatto male ma sta di fatto che c'è questo tipo di continuità ma lo vedremo meglio col prossimo articolo. Quello che sottolinea Antonio Giustozzi è che i talebani di oggi vanno ancora valutati sulla base di quello che faranno e non sulla base dell'impressione dell'idea che noi abbiamo consolidato a partire dai 25 anni fa. Quello che ci dice Giustozzi è che i talebani avevano accettato di fermare le proprie colonne ai limiti esterni della capitale. In ogni caso i talebani avevano solo poche centinaia di uomini attorno Kabul. Questo per dirvi di nuovo che la rappresentazione dei talebani vincenti in realtà sono vincenti e sono entrati perché lo spazio gli è stato lasciato e vi ho già detto che uno degli elementi positivi è che ci sono stati pochi feriti e pochi morti. Tuttavia domenica, riprende Giustozzi, l'improvvisa fuga del presidente Ghani ha causato l'inizio immediato della disintegrazione di quello che restava delle forze armate afghane. A quel punto nemmeno gli americani si sono più opposti all'entrata dei talebani a Kabul. Quello che voglio ricordare che l'inferenza cioè quello che deriva da questa frase è che quelli che si sono sono andati via eccetera in buona parte le armi se le sono tenuti ci sono dei signori della guerra o comandanti militari che non si sa bene ancora e nessuno ce lo dice esattamente che cosa contano di fare con le armi di cui sono in possesso. Giustozzi poi parla più avanti e cerca di discutere sulla questione ed è già venuta fuori come si definiranno i talebani cioè questo Afghanistan dei talebani. Lo chiameranno ancora Emirato Islamico come un tempo? Ebbene le prime dichiarazioni sembrano andare nell'ordine di questa definizione che a noi fa molto paura ma io sottolineo se i talebani sono diversi anche una definizione di Emirato Islamico oggi potrebbe avere un significato diverso da 25 anni fa anche perché Giustozzi ricorda che utilizzare la stessa denominazione d'altra parte rassicurerebbe la massa dei loro combattenti che i principi del movimento quindi non sono stati sacrificati sull'altare del pragmatismo politico. E lui sottolinea secondo me importante all'ombra della continuità apparente i talebani potrebbero innovare più facilmente. L'alternativa è la proclamazione di un sistema politico di governo apertamente ibrido che era peraltro l'obiettivo dichiarato dai talebani quando discutevano con i diplomatici statunitensi nei negoziati che intendevano condurre con l'elite politica di Kabul. Una specie di Quinta Repubblica ricorda lui dopo quelle di Daoud 1973-78 di Taraki Amil Karman Najibullah dal 1978 al 1992 protetta dai sovietici aggiungo io di rabbani tra il 1992 e il 1996 e dopo la loro Repubblica Islamica. Quindi siamo una Quinta Repubblica, quei cinque regimi che Cairo ci aveva ricordato prima di aver visto passare e che nel campo sanitario non aveva avuto gli effetti anche per gli ospedali di emergency non così negativi come noi tendiamo a raccontarlo. I talebani stanno ora facendo affluire rinforzi verso Kabul, ricorda Giustozzi, dove la loro presenza è ancora modesta e quindi dal punto di vista pratico fanno delle azioni piuttosto limitate perché devono rafforzarsi perché ovviamente possono temere la reazione di coloro che facevano parte dell'esercio afgano e le armi non le hanno volute abbandonare. Naturalmente devono anche in questo momento sviluppare delle frenetiche trattative con quelli anche non talebani che li hanno aiutati nel combattere l'occupazione degli stranieri. Cioè gli alleati che li hanno aiutati, dice Giustozzi, ad ascendere al potere e che hanno ancora considerevoli basi di potere a livello regionale e anche il sostegno di alcuni dei paesi confinanti. Lui dice soprattutto le fazioni di Salahuddin Rabbani e di Ekmatyar e Karzai, l'ex presidente, che le ultime fasi politiche degli ultimi anni avevano escluso dal potere ma non è uno che non è più potente. All'interno dei talebani, ricorda Giustozzi, i sistemi elettorali non sono più visti come il fumo negli occhi come era nei primi anni della loro insurrezione. E quindi, si sbilancia lui, è assai probabile che vorranno restringere però la competizione elettorale a gruppi e individui che accettino almeno il principio di un governo basato sulla legge islamica, ovvero niente laici. Quindi i talebani oggi si trovano di fronte a questo tipo di problema e non sono più così contrari all'idea delle elezioni perché hanno capito, probabilmente, che basta selezionare le candidature e avere una formale democrazia elettorale con però dei risultati che sono in qualche modo predeterminati a grandi linee. L'ultimo articolo da cui voglio prendere dei pezzi è di Charles A. Kapchan che è stato consigliere di Obama che è un politologo molto quotato e piuttosto bravo e che è stato anche ovviamente consigliere di Obama quando il vicepresidente era Biden e quindi è un opinionista statunitense molto considerato. La sostanza dell'intervento di Kapchan è che paradossalmente scrive la rapida e agevole avanzata dei talebani e la conferma che Biden ha agito correttamente e non deve invertire la rotta. Ovvero sia, era giusto ad andarsene, vi ho detto, era la conclusione di un processo iniziato da Trump e proprio questo fatto che i talebani siano arrivati velocemente fino a Kabul ma senza una resistenza significa che era giusto fare questa cosa e non si deve tornare indietro. Continua a scrivere, l'inefficienza e il crollo delle istituzioni militari e governative afghane convalidano la posizione di Biden, scettico sul fatto che ulteriori azioni di sostegno avrebbero consentito al governo di Kabul di autonomizzarsi. La comunità internazionale ha devoluto una ventina d'anni, molte vite, migliaia di miliardi di dollari al bene dell'Afghanistan. Però sono stati fatti passi avanti ma non è bastato. Come ha mostrato l'accelera avanzata dei talebani, neppure vent'anni di sostegno costante sono serviti a creare istituzioni afghane in grado di stare a galla. Questo perché la missione è stata fin dall'inizio segnata da un errore fatale. È stata una follia cercare di trasformare l'Afghanistan in uno stato unitario centralizzato. Da geografo, con approccio critico, mi sento di condividere non solo questo ma anche la frase che segue la difficile topografia del paese, la sua complessità etnica e le alleanze tribali e locali danno vita a una costante frammentazione politica. L'area geografica, travagliata, e l'ostilità alle interferenze esterne rendono rischioso l'intervento straniero e moltissimi esempi storici l'hanno dimostrato. Quindi Biden, continua Capchen, ha fatto bene a prendere la difficile decisione di procedere al ritiro ponendo fini a sforzi inutili tesi a un obiettivo irrealizzabile. Il fatto è che noi occidentali siamo tuttora innamorati del cosiddetto stato-nazione, autonomo, centralizzato, che controlla fino all'ultimo centimetro quadrato del territorio, quando per molte culture nel passato, ma ancora adesso al di là delle forme che possono avere, cioè di uno stato apparentemente moderno e anche con elezioni periodiche o strutture istituzionali e somiglianti alle nostre, il funzionamento di questi stati non si sviluppa esattamente come da noi. Continua Capchen, ovviamente non esiste certezza che i talebani non offrano nuovo rifugio ad Al-Qaeda per esempio o gruppi analoghi, ma è improbabile, dice lui, i talebani se la sono cavata benissimo da soli e non hanno bisogno di allearsi con Al-Qaeda. Io piuttosto qua lancio l'ipotesi che invece per i talebani potranno esserci problemi con la jihad islamica, ovvero sia quella diramazione ma autonoma di Daesh. I talebani per questi della jihad islamica oggi sono dei moderati e quindi è possibile che i problemi in realtà per i talebani vengano da un insurrezionalismo o attentati o terrorismo interno fatto da gruppi come la jihad islamica che si considera più pura e più islamica ancora di loro. Capchen ricorda che le motivazioni interne, elettorali non solo, ma che hanno spinto e convinto Biden bisogna proseguire e mettere in pratica quello che aveva iniziato Trump, ovvero sia che oramai gran parte dell'elettorato, non solo quello repubblicano ma anche in parte democratico, è un po' stufo e non vede più di buon occhio di continuare a fare guerra in giro per il mondo e a tenere soldati che vanno in giro a combattere e anche morire, anche se oramai ne muoiono pochi naturalmente, ma l'elettorato, ricorda lui, preferisce che le tasse vadano alle scuole del Kansas e non a quelle di Kandahar. Per chiudere Capchen scrive La missione militare a guida statunitense ha fatto il suo corso, purtroppo il massimo che la comunità internazionale può fare è contribuire ad alleviare le sofferenze umanitarie e spingere gli afghani a ricorrere alla diplomazia, al compromesso, alla moderazione, mentre il loro paese cerca di trovare un equilibrio politico pacifico e stabile. Ora, naturalmente questa è la conclusione di molti degli articoli, speriamo che le cose vadano bene, che non ci siano massacri, che le donne possano andare avanti e le bambine andare avanti a studiare, eccetera, eccetera. Vedremo. Dal mio punto di vista io credo che adesso ci sono diverse forze interne, anche armate, non ci sono solo i talebani e quindi lasciati da soli dopo tanti anni potranno magari adesso aver voglia di negoziare degli equilibri interni che produrranno certamente non un governo unico che controlla tutto il territorio ma una struttura anche istituzionale che tenga conto dei diversi paesi e delle diverse realtà. Da un punto di vista pratico la notizia che l'ambasciata russa non viene smantellata e che quindi rimani è una notizia che ha anche un risvolto di tipo immaginario, ovvero sia gli stranieri occidentali se ne vanno, quindi sono impauriti, scappano, fanno le cose male, mentre i russi stanno lì e quindi sono più coraggiosi. Quello che sottotraccia il messaggio che potrebbe arrivare, che loro probabilmente vogliono anche far arrivare e che loro sono meno paurosi dell'Occidente e soprattutto oggi la Russia, che non è più l'Unione Sovietica, è meno compromessa con i tentativi di occupare un territorio militarmente e di dire agli altri cosa devono fare. Che è stato per certi versi il leitmotiv, ovvero la linea di tendenza dell'approccio russo nei confronti di territori lontani dai propri confini, ovvero io tratto col governo locale, do un aiuto militare, perché economico lo può dare così così, ma non mi intrometto negli affari interni di nessun paese. Dicevo questa linea di politica estera con i territori lontani perché invece nei territori vicini ai propri confini e che considerano dell'area di loro competenza, come la Bielorussia, come la Georgia, come l'Ucraina, naturalmente l'intervento militare non diretto, però lo hanno considerato, lo hanno messo in pratica appoggiando sistemi politici che gli facevano comodo. Molto esperti in questo tipo di pratica è ovviamente la dirigenza cinese, la quale bada gli affari e quindi ha già ricevuto emissari dei talebani e la proposta della leadership cinese attuale è sempre quella. Ci garantite voi talebani che noi possiamo andare avanti a sviluppare le miniere, gli investimenti nelle infrastrutture che fanno comodo in prospettiva futura il nostro progetto di approvvigionamento di materie prime per le nostre industrie. Se ci dite di sì, cosa fate all'interno del vostro territorio, signori talebani, a noi non importa perché noi cinesi, leadership cinese, non interveniamo negli affari interni di altri paesi. Teoricamente gli occidentali invece intervengono negli affari interni degli altri paesi in nome dei diritti umani, ma in realtà non è così. Anche noi facciamo la scelta di quali alleati ci sono utili, per esempio l'Arabia Saudita e quindi accettiamo alleanza con paesi che non hanno elezioni e che fino a due anni fa non facevano neanche guidare le donne e chiudiamo gli occhi per esempio a regimi come quello egiziano di Alsissi o come quello di Erdogan che hanno una finzione elettorale, nel senso che le elezioni ci sono, ma quelli che non gli piacciono gli oppositori li mandano in prigione o mettono addirittura i partiti fuori leggi. Da questo punto di vista si potrebbe quasi dire che siamo un po' più ipocriti della leadership cinese che invece è molto chiara nel dire io accetto qualunque tipo di regime, di sistema perché il concetto di diritti umani è discutibile, non è univoco. Siamo forse un po' meno opportunisti di Putin e del gruppo che lo sostiene, che sono un po' più opportunisti nell'usare le parole e nel seguire i loro interessi. Quindi quello che dobbiamo adesso aspettare di vedere è come si muoveranno gli attori afghani. I giochi non sono chiusi ma cominciano ora. Dobbiamo tenere d'occhio i Mujaeddin del Panjshir e ricordo se trovate un commentatore o un articolo dove talebani e mujaeddin vengono messi sullo stesso piano come fondamentalisti islamici, quel giornalista, quel politico, quel commentatore è un incapace, non sa quello di cui parla. I talebani e i mujaeddin sono cose diverse. I mujaeddin del Panjshir hanno chiuso le loro valli e sono pronti a combattere i talebani come 20-30 anni fa. Ma io credo che oggi i talebani non vorranno più attaccare le valli del Panjshir lasciando ai Tajiki della zona nord che hanno chiuso le valli che si autogestiscano perché non è rilevante per il loro controllo del resto dell'Afghanistan. I signori della guerra, ho già ricordato, hanno armi occidentali. Ci sono altri soggetti nuovi e vecchi che ci sono e che potranno presentarsi. Ripeto, secondo me i talebani hanno capito per esempio che basterà far andare a scuola il 20% delle bambine nelle città, nei luoghi dove già è più visibile che le bambine vadano a scuola piuttosto che nei villaggi o nelle cittadine più sperdute all'interno del paese e questo per la cosiddetta comunità internazionale, cioè quei massimo 10 paesi che fanno e disfano le dinamiche politiche internazionali, ebbene per questa comunità internazionale sarà sufficiente. Certo che l'idea dello Stato centrale all'occidentale in Afghanistan non funziona neanche come ideale anti-Islam. Butto lì, forse potrebbe servire per costituire una coalizione anche ideale e ideologica di opposizione ai talebani se tornasse un discendente dell'ultimo re. E questo potrebbe avere la forza, cioè proporre una monarchia, ricordo che fu il re degli anni sessanta che tolse l'obbligo del velo alle donne. Ci sono delle foto di ragazze e di donne a Kabul, soprattutto naturalmente non nei villaggi, seconda metà degli anni sessanta che andavano all'università, che andavano in spiaggia in bikini o che andavano vestite come le giovani donne o le donne dei paesi occidentali, andavano nei negozi di dischi a comprare i dischi dei Beatles e dei Rolling Stones. Allora, sarebbe per me, da un punto di vista istituzionale, meglio un Afghanistan spartito, ovvero sia formalmente federale, che dia uno spazio autonomo ai poteri locali per dare tempo, cioè questa cosa per ora, per dare tempo per negoziare e per riassestare una situazione in cui siano gli afghani realmente in grado di decidere di loro stessi e non di dover dipendere dai condizionamenti e anche dagli aiuti militari di chi sta fuori. Gli aiuti che possiamo dare possono essere di altro tipo, gli aiuti sanitari come vedete e umanitari almeno, quelli sanitari i talebani non li distruggono se non li hanno attaccati, se non occasionalmente in situazioni di conflitto. Al momento non si può dire che speriamo bene e vediamo cosa succede.